Ciao a tutti, oggi vi faccio un video da una postazione un po' insolita perché ho dovuto rubare la fotocamera a qualcun altro qualcuno che non sa che io stia usando la sua fotocamera perché la mia l'ho dovuta lasciare ai miei quindi insomma è un po' un casinato allora, mi dispiaceva un sacco non fare video perché ne avevo proprio voglia però non ho proprio il modo in cui farlo, ho provato col cellulare ma non riesco a sistemarlo e poi secondo me si vedono anche un po' peggio, quindi sono messa un po' così e niente, sono però molto contenta perché nel prossimo video, penso sì vi parlerò di un acquisto che ho fatto dall'America e che è stato proprio un'occasione, una buzz si dice a Bologna, assurda e poi vi racconterò e comunque sono molto contenta e poi mi sono arrivate anche altre 2-3 cosine di 2-3 acquisti che ho fatto di sample in internet e quindi volevo farvi rivedere l'unica cosa che vi faccio vedere adesso, spera la trovo è il top coat matte della Essence che è questo qua io spero possiate vederlo perché la luce è quella che è e niente, lo sto usando, l'ho già usato su diversi smalti, mi piace proprio tanto perché gli danno, gli danno, gli danno, poi vi faccio vedere le foto però da un occhio proprio diverso, ecco un'occhiata, come si dice da un effetto proprio diverso agli smalti e poi ecco, tra l'altro una cosa che mi faceva anche molto piacere dirvi che, vabbè, in questi giorni c'è stato anche un po' di trambusto perché, vabbè, ho un po' viaggiato, ho fatto un corso che mi ha fatto proprio davvero un sacco, un sacco piacere fare perché, vabbè, ve lo dico tanto guardo di là perché devo controllare se arrivo qualcuno quindi se non vedete che non guardo, vabbè e niente, ho fatto un corso sul massaggio infantile che è organizzato dall'AIMI, che è l'associazione italiana massaggio infantile e vi devo dire che per me davvero è stata cioè, io sono andata lì, ovviamente interessata all'argomento e tutto però pensando di dover semplicemente, no, imparare, ascoltare ero pronta ad assorbire a spugna, no, tutti gli insegnamenti in realtà è stata sì un'occasione di formazione però è stata proprio un'occasione per anche guardarci dentro per, cioè è stato proprio anche molto, un'esperienza molto molto forte dal punto di vista proprio delle emozioni e sono stata molto contenta perché, diciamo, le cose che ho vissuto non le ho vissute solo io da sola cioè le emozioni che ho provato le abbiamo provate tutti quanti eravamo in 20 persone al corso più il trainer e davvero sono andata via proprio con un calore nel cuore piangevamo quasi tutti quando è finito il corso non so se sia una cosa normale, se capita tutte le volte se ci sia capitato probabilmente sarà normale, insomma, in questo tipo di corsi però è stata proprio un'esperienza, non so, mi ha riempita molto mi sento molto... non so come spiegarvi però mi sento che mi abbia dato molto decisamente soprattutto per le persone che ho incontrato e poi soprattutto perché c'è stato proprio anche insomma il corso è organizzato in modo che ti fa proprio anche avere il contatto diretto, cioè l'esperienza subito diretta con i bambini e penso davvero che... non lo so se siano stati i bambini in sé però... non so... tutto il corso in sé ha fatto qualcosa che davvero mi ha... mi ha smosso dentro, ecco, sono sempre io, sono sempre io però... mi sento meglio, ecco, non so come spiegarmi è una sensazione strana, sto bene però questo è l'importante, ecco e niente... adesso sì, direi che ho proprio finito e io spero di fare davvero davvero più presto il video ovviamente rubando la fotocamera che adesso non ho, ok? e niente, ci vediamo presto ciao ciao